raga vado a fare prima sti premi di questa WL 16-4 purtroppo stavo 16-2 mi ha fatto perdere tutte e due in fila c'è imbarazzante il gioco veramente da merda raga ma la pallata ah no aspetta l'Inter mai l'Inter mai vado in culo vado in culo proprio interissimo posto quello è prima che il Milan è imbarazzante che ha fatto vincere la partita è imbarazzante comunque apriamo se sti pic ti dà che ci sono i doti dai dai bene primo pic 85 secondo pic vado i cardeggiaccio mamma mia raga c'è imbarazzanti eh c'è veramente imbarazzante vado a sti cazzi di doppioni la parte è meglio fino da WL se domani ci gioco sto gioco de merda no ma io sto a diverti vediamo obiettivi ho 20 83 più oppure 387 più io 387 più si cazzi puntiamo a quantità cioè alla qualità vediamo un po' ho i pacchetti più brutti 282 più per coltura no il club è sto coglione cioè dopo io ho speso raga ho speso walkout mi sa a land no non può essere che cazzo ah quella è la 89 io ho speso un milione e due ieri raga cioè starvi no oh dio grillis è quella ho speso un milione e due raga non mi ha droppato un cazzo cioè imbarazzante dove si va c'è da avere pazienza non posso tagliare cioè non mi va a dettagliare perché altro faccio tutte queste sfide dai grillis uno uno e quell'altro che era quella là tanto non ci do fa niente dai 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 speriamo di contodi però perco due almeno qualcosa di crucio anche se i basi per niente sono un bappé vinicius ma non ci faccio niente con con vinicius adesso come adesso vai 19 giocatori walkout tedesco cdc oddio ok mi c'ho quell'altro quell'altro guarda il piano si scarta tutto il primo è nato dai 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 285 più walkout inglese terzino destro del rent alexander arnold basta c'erano 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 scambiabili te pare non mai 51 c'erano quelli ai 7 giocatori eccoli niente scartiamo questo scartiamo dai 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 mi sa ci stanno 385 più 387 2 misti il 51 io avrò un misto il 51 questo manca animazione si mica aprimose tutte due tanto fanno schifo pacchetti inutili manca animazione questo si manco workout mamma mia carmona capisci tu fai 16 buffo proprio buffo 51 giocatori dai niente manco walkout certadutto ultimi pacchetti raga quelli buoni in teoria in teoria 385 più walkout walkout ma raga basta basta Cristo bravo corto abbono 90 basta sempre stessi aprimo il 100 100k non ho misa walkout non l'ho visto modrici scarta tutto via ultimate è qualcosa di tipo if mi pare mi pare che if laurence e niff infatti no che cazzo sarà giro pippone diego wow wow scarta tutto 387 più e niffa benzema che palle niffa nì voglio nì voglio manco vede sfide voglio un giocatore di Cristo chi è oh donna ruba viffa però eh roccio oddio posto odicard posto odicard vabbè raga come potete vedere questi pacchetti che che te dà sto splendido gioco mortaci tu 183 code cart ruolo niff leggero vai ultimo poi basta mi ho tratto il cazzo gioco dare gioco dare interessante otto bocca per forza niente regalo non è mai blu mai icona mai cazzo corto un'altra volta tre genote corto bella vaffanculo non siate mancate